Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. C'è qualche nota positiva nel mercato del Milan, oltre ovviamente alla vittoria per 3-2 nell'amichevole contro i Manchester City in America e questo porta il nome di Pavlovich. Il giocatore infatti è a Milano e dunque la chiusura per l'accordo sembra veramente imminente, intorno ai 18 milioni più 2 di bonus. Che ne dite, siete soddisfatti? Continuando a parlare del mercato, sembra che il prossimo arrivo sia Emerson Royale. L'accordo sembra previsto per la fine della settimana. Nota negativa invece per quanto riguarda gli infortuni, dove abbiamo visto un Alessandro Florenzi uscire in lacrime dal campo. Dopo le prime valutazioni a livello medico, purtroppo il giocatore dovrà ricorrere a un intervento chirurgico. Noi logicamente facciamo i migliori auguri al nostro Florenzi. Stanley Meyers ha completamente stregato Fonsecao. L'allenatore infatti si è ritenuto completamente soddisfatto dell'operato del giocatore durante l'amichevole in America e vorrebbe tenerlo. Abbiamo visto finalmente il rientro in squadra di Rafa Leao, dalla quale ci si aspetta veramente tanto. Giocherà titolare nella prossima amichevole contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti? Non lo sappiamo, però voi continuate a seguirci per scoprirlo.